marcio margiorati eccoci l'aspettavamo qui ma sappiamo che ha un impegno molto importante per per europark anche il vostro appuntamento è molto importante ci tenevo tantissimo mi spiace davvero cristina non essere lì con voi ma ci sono quattro giorni di conferenza cui parteciperemo io e il direttore riccardo gini del parco nord milano perché facciamo parte della rete di europark europea e anche di federparchi italiana io sono anche il coordinatore di federparchi in lombardia quindi un momento importante a cui non possiamo certamente partecipare mancare insomma mancare e poi ci racconterà al suo ritorno nel fattempo però come presidente di parco nord milano volevamo sapere quanto è importante un parco le evidenze anche scientifiche che state analizzando perché non siete soltanto curatori del verde ma del benessere di città metropolitana sì certo il parco dunque bisogna calcolare dagli indicatori del parco la fruizione la partecipazione dei cittadini al 31 agosto di quest'anno è stata di tre milioni e mezzo di persone l'intera popolazione di città metropolitana se così vogliamo dire ha potuto frequentare il parco nord milano quindi c'è un bisogno di verde un bisogno di ambiente un bisogno di essere immersi nella foresta urbana altissimo questa porta un grande benessere che noi stiamo studiando da vent'anni grazie a molti studiosi che ci hanno permesso di mettere in campo degli indicatori specifici di carattere psicologico sulla salute pubblica sulle interazioni che questo provoca le persone perché verde nella città vuol dire miglioramento del proprio stato di benettere fisico poter correre fare le proprie attività è un elemento che tocchiamo con mano anche attraverso uno studio che dura ormai da vent'anni che ci permette di dire che l'ecosistema urbano migliora la qualità della vita della salute con indicatori precisi problemi polmonari problemi cardiocircolatori la porzione dello stress che poi incentiva altri tipi di malattie dall'altra parte assicura a noi anche una tutela ai grandi rischi che oggi la crisi climatica pone a tutti noi il rischio dell'acqua quindi delle grandi inondazioni del fatto che molte volte i suoli sono super coperti noi abbiamo città in città metropolitana che sono al 70 per cento di copertura dei suoli e poi risponde ai problemi di calore la temperatura al parco misurata proprio negli anni di maggiore stress e questo è uno di quelli abbiamo costatato la diminuzione forte della temperatura l'umidità la freschezza quindi elementi che sono indispensabili alla qualità della vita delle persone perché ricordiamoci noi siamo sempre comunque una specie animale soggetta molto alle influenze dell'ambito naturale quindi la ricerca scientifica ci permette di dire che oggi abbiamo bisogno di parchi abbiamo bisogno di verdi abbiamo bisogno di circondare le nostre città di foreste urbane ecco infatti lei diceva faceva menzione di una ricerca che dura da vent'anni so che collaborate intensamente con l'università di bari giovanni sanesi che sta proprio anche elaborando i dati però è emerso anche un dilemma beh si emerge questo dilemma lei ha citato sanesi tu anzi citato sanesi ti ringrazio perché questo team di studiosi è stato molto generoso moltissimi di queste attività di ricerca sono svolte anche in modo gratuito e qui vi devo solo ringraziare il dilemma qual è che i parchi le aree verde urbane ma in generale le aree protette siano un costo per la società e che quindi non ci si può permettere questo costo quando ci sono le crisi economiche e le situazioni di stress economico e che stiamo anche queste vivendo ecco noi ribadiamo che proprio perché hanno una grande utilità sociale oltre a una utilità di carattere naturale per le specie viventi la biodiversità che è un compito che abbiamo per tutelare anche il nostro benessere hanno un risvolto diretto alla nostra qualità della vita riducono i costi sanitari ci permettono di svolgere attività fisiche cioè di stare in forma in questa ricerca del benessere quindi non sono più un costo ma sono chiaramente e necessariamente un investimento per questo e io vi dico il parco nord milano è orgoglioso contento felicissimo di ospitare tante persone ma noi non ce la facciamo più abbiamo bisogno di estendere noi dico come popolazione metropolitana abbiamo bisogno di estendere le aree verdi attorno alla città nelle città un processo già iniziato e badate bene attraverso forestami nove bandi costa di forestazione urbana che abbiamo vinto grazie alla collaborazione di parco nord milano parco su milano ersar regione lombardia città metropolitana politecnico cioè un network incredibile che ha le capacità oggi di progettare il verde nella città di milano e nell'area metropolitana e quindi da qui dobbiamo partire da una grande sfida che lancio a tutti voi quella del parco metropolitano e agricolo milanese una grande cintura che permette di mettere a sistema in protezione il 50 per cento del suolo di città metropolitana e di farci vivere all'interno delle contraddizioni della crisi climatica ma soprattutto di farci vivere bene grazie marzo 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 ratti capiamo che state facendo un lavoro molto importante per tutti noi state studiando anche nuovi approcci gestionali e manutentivi qui in questo convegno abbiamo a che fare veramente con tante professioni io penso che siano importanti le riflessioni apportato in questo convegno grazie buon lavoro e ci tengo aggiornati grazie buon lavoro a tutti voi e perdonatemi la mia assenza